Allora intanto grazie di questo incontro scaturito anche diciamo un po' dall'impeto con cui si sono affrontati alcuni argomenti come appunto quello riguardante le energie rinnovabili, l'impatto che gli impianti hanno sui territori e chiaramente anche il modello capitalistico a cui si sottopongono quindi questi elementi insieme alla crisi climatica e quindi alla necessità di trovare fonti alternative suscita anche tra di noi un prese di posizioni e chiarimenti che siamo contenti di poter ospitare sia come trasporto che come officina dei saperi abbiamo convocato diciamo una parola grossa però abbiamo organizzato questo incontro anche per dare modo di un confronto che può avvenire anche solo a livello epistolare ma che così mette insieme un po' tutti i punti di vista e tutte le spaccettature della vicenda. Io come dico abbiamo la registrazione questa come diciamo l'uso della scuola interdisciplinare cosmopolita che abbiamo condotto per diversi mesi e che mi auguro possa riprendere al più presto il suo percorso sarà registrata appunto sarà visibile sul sito di Transform Italia che vi invito comunque a vedere a segnalare per chi non ha potuto partecipare della riunione. Intanto do subito la parola a Piero e ringrazio ancora una volta di aver costruito questo appuntamento e di presentare un po' anche gli ospiti. Prego Piero. Grazie Roberto, grazie a te per l'aiuto che ci hai dato in tutti questi mesi e che continui a darci. Allora io intanto ringrazio Federico Butera il cui nome è stato più volte manomesso diciamo così per la generosità e la prontezza con cui ha accettato l'invito. Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato a una discussione piuttosto intensa e partecipata. Un bel segno diciamo di questi tempi in cui l'indifferenza sembra dominare il comportamento collettivo della nostra società. Io vorrei semplicemente dire due cose, dare due informazioni. Informarvi che al nostro dibattito che seguirà alla relazione di presentazione di Federico Butera che diciamo davvero è uno dei maggiori esperti dei problemi ambientali e soprattutto dei problemi relativi relativi alle energie rinnovabili. Dopo di lui vorrei dare la parola naturalmente all'interno dell'economia della discussione all'avvocato Natalina Raffelli che rappresenta per conto di Italia Nostra i cittadini calabresi che si oppongono alla installazione dell'eolico a largo del Golfo di Schullace per l'impatto ambientale che venebbe ad avere sui territori con termini alla costa ma di questo parlerà lei. In saluto vorrei rivolgere anche ad Angelo Tartaglia che non è diciamo un frequentatore della scuola che da grande esperto comunque partecipa al comando chiudete i microfoni perché altrimenti interrompete. Altro grande esperto e lo saluto ma io finisco di aggiungere davvero nulla Do subito la parola a Federico Butera peraltro raffreddato ma che diciamo a parte qualche colpo di tosse farà farà come al solito il suo il suo discorso di presentazione la sua lezione prego Federico grazie grazie a te vengo subito o dunque in modo da lasciare spazio agli altri il più possibile già sono stati toccati due argomenti dei mille che fanno parte di questa di questa tematica capito bene che avendo a disposizione del tempo ovviamente limitato ho dovuto sceglierne alcuni per esempio sull'offshore potremmo intervenire nuovo sulle problematiche delle multinazionali possiamo accennarne a quei magari la propria io ho scelto due temi che mi sono sembrati abbastanza sostanziali uno è il tema dell'occupazione di suolo degli impianti fotovoltaici e eolici considerata giustamente o non giustamente lo vedremo inaccettabilmente grande quando questo fotovoltaico si potrebbe mettere sui tetti degli edifici invece che sul terreno agricolo sottraendo quindi spazio l'altro tema è quello della alterazione o vuoi leggerla pure devastazione del paio saggio causata da questi grandi impianti allora cominciamo dal primo punto sono soliti dire che dovunque ci giriamo vediamo punti fotovoltaici e eolici e quindi il loro consumo di suolo è chiaramente molto elevato però se andiamo a guardare i numeri non dicono questa cosa secondo l'istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale nel 2022 è stato consumato complessionalmente il consumo di suolo complessivo è stato di 7.700 ettari intendiamo il consumo fatto con strade, capanone industriali, centri commerciali, supermercati, centri logistici centri direzionali, strade, parcheggi, case, cave, miniere e impianti e olici e fotovoltaici di tutta questa roba gli impianti olici e fotovoltaici hanno rappresentato il 3% dei 7.700 ettari a questo punto il non avere visto i centri logistici, supermercati, le strade, i parcheggi le centri commerciali e così via e avere visto invece il fotovoltaico forse fa pensare che ci sia un problema di percezione a quelle cose di prima ci siamo abituati e non le vediamo più questi sono nuovi e li vediamo secondo tema perché mettere il fotovoltaico a terra quando abbiamo tanti tetti vediamo ancora una volta un po' di numeri secondo il piano nazionale integrato per l'energia e il clima entro il 2050 affinché l'italia rispetti il green deal e vada a emissioni nette zero occorre installare 250 gigawatt fotovoltaici è un numero che a voi non dice niente va benissimo ve lo sto dando soltanto per dire che la stessa ispra sempre ha calcolato che sui tetti non se ne possono mettere più di un'ottantina di gigawatt cioè perché non ce ne sono altri i tetti i tetti sono quelli che sono quindi a quel punto con i tetti possiamo coprire solo un quarto della produzione che è necessaria quindi il resto va necessariamente messo a terra quindi non si può dire state facendo qualcosa che non funziona perché abbiamo i tetti ma vediamo il resto messo a terra che cosa va a occupare questo resto andrebbe a occupare duecentosettantamila ettari numero anche questo ma che significa è un numero spropositato piccolo grande beh vediamo secondo l'istat dal 1980 al 2020 la superficie agricola utilizzata cioè quella coltivata effettivamente è diminuita di 3,2 milioni di ettari cioè ci sono persi alla produzione 3,2 milioni di ettari cioè una superficie è 12 volte superiore a quella che occorrebbe per avere il fotovoltaico che ci porta a emissioni zero nel 2050 sono superfici produttive dal punto di vista agricolo quindi se io ne prendo e ci metto sopra il fotovoltaico non faccio danno paesaggistico sostanzialmente specialmente nelle più recenti che comunque sono in transizione dal coltivato al selvaggio allora c'è di più anche secondo alcuni combinando il fotovoltaico e l'agricoltura con l'agrivoltaico cioè produrre contemporaneamente cibo e energia dal sole potrebbe essere uno stimolo alla riutilizzazione la rivalorizzazione invece di questi suoli perché li rende più appetibili dal punto di vista economico avendo due sorgenti di reddito quella solare e quella della produzione agricola ma c'è anche un'altra possibilità per la verità secondo uno studio fatto recentemente in Italia abbiamo ben 400mila ettari di aree dismesse quindi molto di più dei 270mila che occorrerebbero per il fotovoltaico perché non mettere lì perché perché è complicato perché costa di più e ovviamente le imprese che vogliono mettere il fotovoltaico tendono alla massimizzazione del profitto e lì non ci vanno allora dovrebbe intervenire lo Stato e le regioni scusa un po' più vicino al microfono per favore senz'altro mettere grazie eccomi qua bisognerebbe che Stato e Regioni intervengano con incentivi per occupare prima di tutto queste aree per renderle economicamente più appetibili delle altre questo è un tema che però non viene preso in considerazione al momento c'è un altro problema quello della distribuzione di questi impianti perché non andrebbero distribuiti omogeneamente nelle regioni del sud che hanno un potenziale solare e neonico maggiore è previsto che vadano più impianti per ovvie ragioni economiche conviene di più perché si rende di più e comunque perché è previsto da norma europea si chiama il balance sharing è un criterio stabilito a Bruxelles che vale a livello nazionale che ogni paese deve applicarlo al suo interno e che prevede proprio questo chi può produrre di più produce di più questo ovviamente significa che l'occupazione di suolo e l'impegno delle regioni come Sicilia, Casadegna, Calabria, Puglia e così via è maggiore e allora dovrebbero almeno essere compensate e questo devo dire sta avvenendo dal primo gennaio 2025 si passa alle tariffe zonali che significa? cioè nelle regioni che hanno più rinnovabili producono quindi più kilowattora da rinnovabile avranno un costo del kilowattora più basso cioè le bollette si riducono sia il privato le aziende quindi possono per esempio quelle molto energie possono preferire venire giù in Sicilia o in Calabria o in Sardegna a installare le loro impianti perché l'energia elettrica gli costa di meno potrebbe non bastare ma comunque è un elemento che potrebbe favorire in qualche modo una forma di sviluppo del Sud impatto sul paesaggio veniamo al secondo punto qui è più critica direi la cosa intanto mettiamoci d'accordo sul significato sulla definizione quella definizione che credo che non si possa non condividere perché è quella che i paesaggisti hanno convenuto alla convenzione europea del passaggio del paesaggio è questa ve la dico letteralmente leggendola dal testo il paesaggio designa una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall'azione di attenzione dall'azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni ripeto fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni questa è una cosa estremamente importante è importante perché quando guardiamo bellissimo paesaggio ruale toscano tirare i viti, i orti, le costituzioni varie tutto immutato da secoli Dante già lo vedeva così siamo contentissimi di averlo preservato e ci siamo riusciti così com'era perché era proprio come lo vedeva Dante invece non è vero è nostra cosa completamente dal punto di vista paesaggistico perché dal punto di vista naturalistico la natura entra nel paesaggio non ha nulla in comune con quello di Dante perché a partire da 150 anni fa abbiamo cominciato a intervenire con fertilizzanti artificiali più avanti oggi il terreno è pieno di fertilizzanti artificiali e pesticidi l'ecosistema agrario è profondamente diverso peggiore peraltro come qualità allora al rigore di definizione non lo abbiamo affatto preservato però ci sembra uguale allora vuoi vedere che a cambiare è stato il panorama a non cambiare è stato il panorama ma non il paesaggio e ancora io vivo a Palermo quindi l'esempio lo faccio qui prendo la macchina e vado da Palermo a Trapani in autostrada e mi imbatto lungo la strada in un certo numero di campi eolici alcuni vicinissimi altri più lontani oddio questa roba qui questi piloni enormi con le pale che girano sono terribili ecco sì mi appaiono tali però quello che non pensiamo quanto orribile o devastante dal punto di vista ambiente del paesaggistico è sono quelle centinaia di chilometri di autostrada che ho davanti a me e i centinaia di chilometri che ho dietro di me con con gallerie viadotti e tutte le altre cose che ci sono e che proprio da un punto di vista quantitativo peraltro è estremamente più grande se poi invece di venire da Palermo vengo da Messina devo passare accanto ai tubi altissimi della del ciminiere della raffineria di Milazzo e miasmicamente e poi devo passare al ridosso della centrale elettrica in termini merese i cui le cui ciminiere sono estremamente più alte e più grandi di un aerogeneratore ma non me ne sono accorto poi vi dico siamo passati da la vittoria che è totalmente una serra non si vede più un filo d'erba è solo serre e non me ne accorgo più sappiate la superficie a serre oggi in Italia è 2,5 volte maggiore di quella fotovoltaico allora la verità qual è? che ad alcune alterazioni del paesaggio siamo abituati e non le notiamo più il fatto reale è che il paesaggio è sempre cambiato da quando eravamo cacciatori raccoglitori ad agricoltori con l'agricoltura l'abbiamo cambiato negli ultimi due secoli l'abbiamo cambiato più che in tutto l'arco della storia umana è sempre in peggio perché l'obiettivo dell'attività umana è stata la crescita economica senza limiti a danno della natura e quindi dell'umanità che della natura è parte per cui quello che è strano è che questo paesaggio rurale per cui molti si battano si battono al fine di lasciarlo immutato è un paesaggio malato fatto di grandi distese monoculturali con ecosistemi agonizzanti con cibo prodotto che è destinato agli allevamenti intensivi allora il paesaggio è destinato a cambiare per salvarci dalla catastrofe del modello della crescita senza limiti noi oggi questo dobbiamo fare dobbiamo cercare di cambiare sostanzialmente questo modello e abbiamo bisogno delle fonti rinnovabili per farlo e allora è ineluttabile che questo paesaggio quello post-industriale quello industriale cambi e che si vada a un paesaggio post-industriale quello sostenibile ed è ineludibile tutto questo e dobbiamo farcene una ragione dobbiamo accettare che ci siano tutti questi impianti se vogliamo che poi non sono tantissimi abbiamo visto che poi occupano spazi abbastanza limitati dobbiamo fare in modo che questo altro paesaggio integri nel modo migliore gli aspetti ambientali e naturalmente sociali ora è importante in tutto questo non vorrei che ci fossero equivoci e dubbi la cosa ineludibile che non si discute è che dobbiamo preservare la nostra storia la nostra cultura e l'ambiente cioè da questo punto di vista non si discute tutto quello che sto dicendo che ho detto fino a ora è da per scontato che i valori della nostra storia della cultura vanno vanno assolutamente difesi però lì dove non ci sono questi vincoli stretti dobbiamo essere più aperti perché dobbiamo un mille cerci che questo passaggio deve cambiare è indiscutibile comunque che bisogna impedire che questa transizione venga lasciata senza regole nelle mani di quegli stessi che hanno creato la crisi e che ora cercano impadronirsi fuori degli strumenti per attuarla finanziando eolico e fotovoltaico c'è tutta questa storia delle multinazionali che stanno dietro questi campi stiamo attenti non è sempre così esistono c'è molta Italia e molte imprese italiane Italia Italia Solare è un'associazione che è fatta di imprese italiane che investono e che vengono certamente quando andiamo ai grandi campi eolici offshore i costi di investimento sono talmente grandi che evidentemente si va oltre e i finanziatori sono molto spesso finanziarie straniere allora va bene essere vigili sempre ma combattere le rinnovabili in nome della conservazione del panorama soltanto di ciò che vedi è una cosa che fa il gioco poi alla fine di chi vuole imporre il gas nucleare e il sottolineamento della CO2 cioè di quelli che invece dobbiamo cercare di combattere devo dire che ho approfondito un po' il tema in tema Sardegna a mio avviso stanno clamorosamente sbagliando per nell'operazione che stanno facendo che si stanno mettendo nelle condizioni di non poter di dovere necessariamente avere i rilassificatori rilassificatori la dorsale di metano e la distribuzione del metano ora cominciare ora a metanizzare quando dobbiamo azzerarlo bene io mi fermo qui sperando di essere stato nel quarto dono a venti minuti che verranno stati assegnati grazie 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 davvero professore chiaro sì grazie Federico mi sembra che hai fornito un quadro ampio articolato e anche profondo diciamo della della situazione io poi mi riservo di intervenire di aggiungere alcune cose alla diciamo al quadro che tu hai offerto adesso aprirei subito il dibattito perché so che ci sono molte persone che vogliono dire eh la propria e mh chiedo loro di alzare la manina in maniera tale che eh io o Roberto possiamo diciamo eh vedere il nome di chi si propone e e dargli la parola quindi inizierei subito ho richiesto un intervento iniziale ma qualcuno mi ricordo Enzo Enzo vedete come si fa la mano io non non riesco a non riesco a reazioni reazioni reagisce e c'è va bene comunque la parola chiede la Raffaelli eh sì prego prego avvocato bene io ho ascoltato con grande interesse la relazione eh però di mh devo dissentire su alcuni punti soprattutto la luce del parco eolico e notria che vogliono realizzare nel golfo di squirace eh è vero che il progresso non si ferma e che non bisogna ostacolare più di tanto la l'uso di di forme di energia alternativa però quello che stanno mettendo in atto è una vera e propria colonizzazione del sud e in particolare della Calabria io credo che il criterio principale da seguire dovrebbe essere quello dell'autosufficienza di ciascuna regione o di ciascun ambito anche magari un pochino più ampio ma non è possibile che eh venga questa multinazionale eh spagnola che si autodefinisce la più grande del mondo costituisca una mini eh società SRL con un capitale sociale di 26 mila euro e con un progetto letteralmente inesistente perché non ha nessun contenuto e tutto un vedremo faremo vedremo poi risolveremo il problema se ci sarà sulla base di dati sbagliati anche e di dati eh presi così a casaccio addirittura nella parte finale del progetto come ha sottolineato la sovrintendenza speciale al PNRR si parla della Spagna del progetto che c'è di Spagna quindi è un progetto copiato imposto dall'altro dall'alto per cui noi credo come cittadini calabresi dobbiamo opporci nettamente a questo progetto non ha sia dal punto di vista del parco offshore sia per le ricadute che ha sul territorio calabrese perché poi eh è prevista questo lungo condotta che non si sa dove andrà a finire dicono a scandale ma in realtà eh deve collegarsi ad una centrale della Terna che ancora non esiste non si sa dove sarà realizzata quindi abbiamo un progetto che in effetti è così un po' campatinaria tanto loro prendono i soldi non lo so la ricaduta sul territorio calabrese è zero noi siamo già autosufficienti in realtà vogliamo vendere l'energia al nord benissimo ma non possiamo essere colonizzati da chi tra l'altro nel progetto stesso dichiara che i calabresi non hanno nessun eh panorama da eh tutelare nessun panorama marittimo da da tutelare perché eh da dove sorgerà l'impianto e si vede solo mare non ci sono isole non c'è niente quindi una cosa di mare eh eh uno spazio marittimo senza nessuna bellezza diciamo paesaggistica e quindi i calabresi devono abituarsi a cambiare il loro linguaggio ad abbandonare le loro tradizioni e ad adattarsi a questo mondo no anche il paesaggio marittimo calabresso soprattutto l'Ionio è un paesaggio identitario che risale ai tempi della Magna Grecia noi abbiamo lungo la costa ionica degli insediamenti archeologici che non a caso sorgono lì non erano solo le città io quando vedo eh capocolonna io guardando capocolonna guardando lo spazio di mare davanti capocolonna capisco l'importanza che poteva avere la natura la bellezza l'idea della divinità la natura vista come una divinità in quello spazio immenso blu che ti si apre davanti agli occhi e vogliamo metterci tutte queste paleoliche enormi enormi sono le sarebbero le più alte al mondo 355 metri sul livello del mare cioè vuol dire più alte della città di Montepaone più alte ehm di Catanzaro pure del livello di Catanzaro con un a con un diametro di pala di 310 metri 37 pale che devono stare tra di loro a distanza che pescano nel mare per 27 metri e che hanno un ancoraggio di 6 ancore per ciascuna pala 6 con una profondità di oltre un chilometro e per poter ancorarsi vanno a cadere sulla faglia perché diversamente da quanto dichiarano nel progetto che sorge sulla piattaforma ehm ehm terrestre di della Calabria la la Calabria non ha piattaforma terrestre perché finisce al sulla costa la piattaforma terrestre quindi va a pescare in una zona che eh praticamente sono grandi canyon formati del in epoche preistoriche e dove tra l'altro di recente sono state scoperte anche delle propaggini vulcaniche che forse forse sono collegate all'Etna ancora non si sa questo l'ha scoperto il CNR il CNR ehm praticamente il 3 ottobre ha dichiarato ha fatto questa questa scoperta diciamo ha ha depositato la relazione quindi noi come associazione eh cercheremo di opporci fino all'ultimo perché ripeto anche alla luce della normativa europea lo sviluppo deve essere compatibile con la realtà sociale ed economica di un con l'identità di una popolazione e non può essere espettuato in contrasto con la volontà della popolazione non è possibile che vengano dal nord o vengano dall'Europa o dalla multinazionali per depredarci di quello che è il nostro benissimo il paesaggio si può cambiare il paesaggio è stato cambiato ma qual è l'incidenza di tutti questi questi insediamenti? Nel Golfo di Squillaccio sono previste cinque insediamenti cinque parchi eolici offshore cinque il che vuol dire che finirà la pesca finirà eh il turismo eh diciamo delle venivano a Crotone anche le crociere non verrà che cosa verrà più? Non sarà più possibile fare neanche le regate veliche quelle che stavano per cominciare ad avere un certo abbrivio. Se vogliamo dare alla Calabria una vocazione turistica questi questi parchi e questi offshore sono in parte diciamo in massima parte incompatibili. Questo a mio giudizio. Ho finito. Grazie Avvocato. Un contributo importante e anche una testimonianza di di quello che eh diciamo in atto in programmazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni e eh diciamo costituisce costituisce come dire un elemento di conoscenza eh per chi non non è no diciamo informato su questi problemi secondo me di grande e allarmante rilievo. Allora do la parola a chi la chiede. Grazie comunque. Ricoletta Radatta e poi Fabio Giovanni. Allora eh io ringrazio tantissimo eh Natalina per aver eh riportato alla il discorso della eh transizione alla dimensione e materiale e concreta perché in assaggio alle fonti pulite tra virgolette però poi dobbiamo vedere all'atto pratico queste queste come si vanno a implementare sui territori. Tu hai fatto l'esempio della Calabria io mi permetto di darti del tu perché eh mi sento eh vicina in questa causa ehm io riporto il caso del eh del Molise brevemente e farò l'esempio di un solo comune che ha attualmente in istruttoria venti progetti di cui quattordici di agrovoltaico quindi se tutti questi progetti mh venissero approvati un solo comune molisano praticamente andrebbe a eh produrre l'intero obiettivo nazionale per l'agrovoltaico previsto dal Ministero dell'Ambiente quindi anche questo ci fa capire che evidentemente va benissimo che ogni regione debba eh eh contribuire al raggiungimento degli obiettivi però che un solo comune addirittura copra l'intero obiettivo nazionale e qui ci fa capire che forse qualcosa non torna. Questo mh era un po' anche per dare l'idea a Federico quando dice non sono tantissimi in Molise un solo comune questo si tratta di un altro comune un solo progetto di agrovoltaico ha chiesto. Comune per cortesia ci può dire il nome del comune? Allora il comune che ha ehm venti impianti in istruttoria è Rotello comune di Rotello in provincia di Campobasso invece un altro comune che si chiama Guglionesi per un unico progetto sono stati richiesti trecento ettari quindi a me sinceramente per un solo progetto trecento ettari non stiamo parlando di ehm eh poca eh superficie. e poi brevemente come si fa a dire che il paesaggio è già un contaminato è un paesaggio già industriale che poi non andrebbe naturalmente generalizzata questa affermazione perché sappiamo benissimo che le regioni italiane sono tutte diverse ma allora che facciamo perché è già stato industrializzato andiamo a mettere nel nostro caso le pale natalina saranno perché parliamo di eolico a terra le pale saranno quelle XXL quindi parliamo di duecento metri duecentocinquanta metri. i plinti di fondazione sono quaranta metri di diametro cinque metri di altezza totale mille metri cubi di cemento più cento centocinquanta tonnellate di acciaio e a me sinceramente questi numeri eh preoccupano eh un po' e per quanto riguarda poi chi andrà a utilizzare questa energia perché secondo me anche questa è una domanda che non possiamo non porci. ehm eh Federico è siciliano saprà che Amazon ha già inaugurato un parco agrivoltaico molto grande e sul suo sito eh loro insomma si vantano di aver concluso il primo accordo energetico tra aziende private per cui un parco agrivoltaico che utilizza quindi hm territorio eh terreni agricoli siciliani andrà a produrre energia per eh Amazon. e poi a me quello che dispiace però ancora di più è che credevo o comunque poi magari si potrebbero anche organizzare altri ehm appuntamenti su questo tema. noi stiamo ehm ovviamente ignorando parliamo del nostro paesaggio, del nostro territorio ma non facciamo menzione di quello che succederà nei paesi eh africani e nei paesi del Sud America. Succederà, sta già succedendo perché la Banca Mondiale, l'ha detto la Banca Mondiale, non io, queste tecnologie sono molto più intensive in minerali e ovviamente ehm anche in termini di eh superficie perché i pacchi e oli ci sono, li stanno eh impiattando anche in messi. e noi non possiamo far finta di niente perché qui ci sono interi territori, interi stati e soprattutto persone che stanno sostenendo la nostra transizione eh energetica. Poi non c'è naturalmente la dimensione, non si parla della dimensione eh finanziaria, economica, quello che un po' si ha accennato anche Natalina, andrà a vedere un po' il profilo di queste eh società e soprattutto sono società che eh presentano progetti a pioggia. i progetti sono tutti copia e incolla, io ne ho letti diversi perché ho presentato diverse osservazioni, addirittura si arriva all'assurdo, anche l'ISPRA per un progetto in concreto del Molise ha presentato l'ISPRA stesso, delle osservazioni lunghe settanta pagine, sostanzialmente per bocciare il progetto. quindi voglio dire insomma c'è qualcosa che non va in questi eh in questi progetti. C'è poi naturalmente la dimensione eh territoriale perché qui qualcuno ha deciso che ci devono essere delle zone di produzione e delle zone di consumo e guarda caso le zone di produzione sono quelle rurali, periferiche e in questo caso il sud del mondo, invece quelle di consumo devono essere le zone urbane, eh deve essere il centro, devono essere eh i paesi del nord, anche perché la transizione l'abbiamo inventata noi e soprattutto in nome di questa transizione sostenibile noi stiamo andando a eh sacrificare definitivamente territori ancestrali che in nulla hanno contribuito alla ehm all'emergenza climatica. Quello è ovviamente è un problema nostro che dovremmo risolvere noi e che invece stiamo chiedendo a loro di risolverci come abbiamo sempre fatto e quindi giustamente ci sono i compagni e le compagnie sudamericane che non parlano di transizione energetica ma parlano di eh estrattivismo eh climatico o eh neocolonialismo verde perché alla fine insomma di questo eh si tratta. e mh per quanto riguarda anche la dimensione democratica chi decide dove vanno messi questi impianti? Noi adesso siamo ehm nel periodo in cui le regioni devono individuare le aree idonee ma nel caso molisano mh nessuno ha convocato nessuno né degli assessori né il presidente nessuno dei dirigenti ha convocato i comuni come invece espressamente previsto dal decreto men che meno le comunità e men che meno le associazioni che eh si battono un minimo oltre che a presentare eh eh osservazioni ma per eh salvare il il salvabile quindi in realtà parlare ripeto in astratto siamo tutti d'accordo ma quando poi andiamo a leggere i progetti a vedere come questi verranno implementati a vedere quanti ettari saranno sacrificati e poi un'altra cosa io vi invito a vedere oltre il rapporto dell'ISPRA che naturalmente ho letto anch'io e l'ISPRA dice che solo utilizzando i tetti si potrebbe raggiungere il novanta novantasei giga ma oltre ai tetti ci sono aree di smesse parcheggi aree di servizio quindi in realtà le aree già impermeabilizzate sono molto di più dei tetti il problema che quelle non si vanno a usare perché perché le aziende hanno detto e l'hanno detto apertamente che per loro queste aree non sono redditizie ma allora l'obiettivo non è usare fonti pulite l'obiettivo è eh come si dice moltiplicare gli impianti e moltiplicare i profitti per queste aziende perché poi sostanzialmente il noccio della questione che lo Stato ha completamente applicato alla pianificazione energetica l'ha affidata ai privati e noi adesso ci troviamo in questa situazione grazie e Fabio Giovanni chiedo di essere più concisi possibile in modo da consentire a tutti di parlare eccoci ora dovresti sentirmi prego prego confesso che l'apertura di Butera mi è piaciuta molto vorrei proseguire su questo filo di ragionamento per questo c'è una cosa scritta in chat parliamoci chiaro se qualcuno pensa che non dobbiamo lavorare alle decarbonizzazioni del pianeta e me lo dica perché esco da questa riunione perché io gli argomenti di alternative furdeutschland i nazisti tedeschi quelli di Marine Le Pen e fronte nazionale non li uso per cui bene essere chiari compagni o non so amici o fratelli non scherziamo qui la questione climatica c'è chi la nega cortesemente esco io mica pretendo che esca lui da qui ma è indiscutibile che stiamo facendo un disastro mondiale che sta causando migliaia decine di migliaia milioni di vittime intere popolazioni si vanno riposizionando a causa di siccità immense che in Africa stanno devastando interi stati non solo ma regioni italiane come la Sicilia sono devastate dalla siccità non so com'è andata in Calabria quest'anno non ci sono stato ma da questo punto di vista se non siamo nell'idea che siamo in un'emergenza gravissima io ve lo dico lasciamo perdere voglio dire stiamo giocando un'altra partita immorale a cui io non voglio più partecipare questo come per chiarire l'elemento cardine se siamo dentro il quadro che discutiamo se, come, quando e quello che è giusto e quello che è ragionevole mi sta bene il resto sono posizioni su cui non mi posso assolutamente allineare per nessun motivo ma detto questo vorrei cominciare a chiarire una questione i progetti ne vengono presentati migliaia in tutta Italia anche col ciclostile da tutte le parti quelli non sono progetti veri sono tentativi di occupare quello spazio che la rete ti darà cioè non è pensabile che in Calabria si facciano l'energia elettrica di tutta Italia no, impossibile neanche di mezzo Italia neanche di un terzo d'Italia perché? perché c'è la rete elettrica sapete cos'è una rete? una rete non è un nodo da una parte e poi un niente una rete significa che ha un suo equilibrio quindi la rete di Terna con mano a mano che viene modificata rafforzata, strutturata può accogliere progressivamente alcuni impianti ci potranno essere anche 100 domande resta il fatto che solo pochissime saranno accettate perché se la rete non ha la forza per gestirla non può farlo quindi non è possibile che in Calabria entri un quantitativo di rete di energia elettrica che squilibra tutta la rete nazionale non è possibile quindi basta con questo argomento che è un argomento falso ma un argomento semplicemente di chi non ci capisce proprio neanche il minimo di questa questione allora la rete è una rete quindi né in Sardegna i comitati che lottano e vaneggiano né in Calabria possono pensare che avviene la costruzione di tutta l'energia d'Italia non è così più di quella che la Sardegna oggi mette in Italia non ne verrà immessa con la differenza che in Sardegna il 50% dell'energia è fatto con il carbone il 25% dell'energia è fatto con il gasolio mi spiego? e ha una incidenza carbonica peggio della Cina è uno a livello europeo insieme alla Polonia è il paese peggiore, è il luogo peggiore di produzione di energia elettrica cioè ha un'impronta di carbonio feroce anche la Calabria ora non mi raccontate che paio io ho la moglie calabrese e ci vado spesso il paesaggio calabrese innanzitutto è devastato e se qualcuno l'ha visto che non è devastato secondo me io vi distribuisco un po' d'occhiali perché soltanto a Ciro c'è una vergogna assoluta cementifici immensi abbandonati che fanno spavento e paura va bene? ci sono lungo la costa decine di migliaia di case non costruite e di scheletri rimasti lì va bene? non hai bisogno di convincerci c'è una centrale sto creando problemi parlo troppo forte? no ti ho detto che non hai bisogno di convincerci soprattutto noi calabresi ecco era solo per chiarire perché se no devo aver sbagliato io qualche cosa detto questo quando si posizionano in mare turbine che non hanno quelle altezze guardi per sapere le altezze delle turbine basta andare su chat GHP e vi informa va bene? la pala più grande al mondo va bene? quella che produce 15 megawatt che significa dare energia a un paese di 10.000 persone completa va bene? ha la pala più grande 115 metri e ha l'altezza più grande nel complesso 260 a sbagliare di 150 metri prima di tutto non va bene ma cresceranno seconda questione a voi paiono brutte le paleoliche? è un'opinione ma chi l'ha detto che sono brutte? la cosa avete stabilito che sono brutte? certo se io in un paesaggio ne metto troppe è chiaro che modifico quel paesaggio quel paesaggio viene stravolto questo no quindi bisogna sapere come dire limitare gli squali tigre le speculazioni lavorarci sopra ma non dire non si fa dire ne fate troppe ne voglio di meno ne voglio degli elementi ma fare cose diverse una paleolica in mare ma non scherziamo innanzitutto non si vede perché la paleolica non è che la mettono a 50 metri dalla spiaggia per andarci a stendere gli asciugamani la mettono almeno 15 chilometri oltre la spiaggia chiaro? la più vicina sono a 15 chilometri provate a vedere una paleolica di 250 metri a 15 chilometri cosa vedete? allora se siete fissati e vi ci mettete a lungo con il canocchiale la vedete altrimenti non si vede va bene? ma cosa vuole la colonna del coso che si vede? ma dove si vede? è impossibile cioè vi siete fissati con una cosa di cui non capite la dimensione sono 200 pensate è una questione di prospettiva cioè se uno insegna vada a studiare chi ha fatto altre cose capisco che non lo sappia si faccia uno schemino e vedrà che da lontano si vedono alcuni puntini ah dice ma se poi vado in barca non posso pescare questa è una scemenza totale ma chi l'ha detto? si può pescare tranquillamente certo non sotto la paleolica non si pesca ma tolto il sotto della paleolica si pesca non solo c'è un'altra questione moltissimi studi ormai tutti gli studi dicono innanzitutto questi campi eolici per la questione ad esempio degli uccelli sono stati regolati con dei blocchi quando passano gli stormi di uccelli anche se è stato provato che a livello mondiale ne ammazza più i grattacieli che le paleoliche va bene? ma questo ormai sono studi eccetera come dire arci ribaditi anche perché l'ex presidente della LIPU e non è né un corrotto né un bandito Fulvio Mamone Capri è oggi presidente dell'associazione dell'eolico in mare dell'Aeron quindi evidentemente insomma un uomo che ha fatto della sua vita il lavoro per la tutela dell'ambiente l'altra questione è che sotto le pale come sotto le piattaforme anche di altro genere cresce la vita diventano nurseri del mare perché si crea un punto di aggancio in cui avvengono le ripopolazioni questi sono studi dell'università di Ancona delle Marche di tutta una serie di università italiane che io ovviamente vi posso inoltrare questo come le altre cose che dico quindi quello che voglio dire è un'altra questione sull'eolico non dico altro ovviamente e sul fatto ad esempio che la Calabria ha una storica tradizione rinnovabile la Calabria è il luogo dove sono nate le rinnovabili in Italia grazie ai grandi laghi e sud della Sila con quelle con quelle cose la Calabria è stata come dire l'antesignana delle fonti rinnovabili non so se lo sapevate ma nel 55 ancora l'Italia andava tutta a fonti rinnovabili grazie alle dighe idroelettriche di tutta Italia va bene quindi è naturale per la Calabria cogliere questo elemento anche nel di possibile sviluppo certamente gli squali gli speculatori vanno tenuti sotto controllo bisogna chiedere le ricadute nei territori bisogna chiedere che una parte delle azioni vengano date in primis all'investimento locale bisogna chiedere che ci sia un ritorno pubblico assolutamente proprio per consentire uno sviluppo nuovo di questi campi bisogna chiedere che pezzi di quei campi oeolici o a terra siano destinati anche gratuitamente alle comunità energetiche insomma bisogna fare una cosa diversa un'altra notazione rapida qui cerco di andare rapidamente alle conclusioni gli impianti sopra i parcheggi sono belli c'è un piccolo problema che il fotovoltaico costa un quarto del porta parcheggio quindi non è che le aziende non le vogliono fare io fondai un gruppo per coprire i parcheggi tanti anni fa quando ancora non ero in pensione lavoravo non avevo conflitti ne facevo quel lavoro lì va bene lo feci per due o tre anni poi sono andato in pensione dalla politica e oggi porto avanti la rete di Ecofuturo gratuitamente da sempre ma detto questo nei parcheggi il problema è chi paga la struttura se pagate le strutture non c'è mica problemi se copre tutta l'Italia vorrei anche vedere e chi è che si rifiuta di metterceli sui parcheggi per quanto riguarda il fotovoltaico a terra e qui vado alle conclusioni innanzitutto ci sono 20 progetti in un comune bisogna vedere come sono se sono 20 progetti da un ettaro non è la fine del mondo se sono 20 progetti da 20 ettari è una tragedia culturale e paesaggistica siamo completamente d'accordo le cose fuori misura sono fuori misura ma si fa la battaglia per ridurle per rimpicciolirle per renderle ecologiche per avere la ricaduta ma non fermarle queste cose lasciatele fare alle PEN e all'AFD tedesca ma non si può fare chi combatte la battaglia del clima e chi combatte una battaglia per la democrazia energetica perché i poveri sia chiaro se hanno una chance di avere un futuro migliore lo possono avere solo con le energie rinnovabili fatte sopra casa certo ma anche con le altre energie rinnovabili di cui chiediamo il doppio mercato che già oggi costerebbero la metà se ci fosse il corso del costo delle rinnovabili del costo delle fossili ma non ce ne danno l'opportunità l'ultima annotazione quando un fotovoltaico sta sopra la terra prende il 15% in più vi spiego perché si raffresca allora bisogna almeno liberalizzare i piccoli impianti almeno fino a 50 kilowatt questo almeno bisogna liberalizzare per la terra anch'io sono d'accordo non si devono più occupare suoli agricoli di qualità per fare fotovoltaico di qualità però perché se sono suoli abbandonati da anni che non ci va più nessuno semplicemente perché sono morti o sono stati resi morti dalla chimica il fotovoltaico potrebbe semplicemente mettendoli tra virgolette in sonno ovviamente in gestione biologica con semina ogni anno di erbe tutta una serie di caratteristiche che vanno pretese va bene assolutamente va bene è chiaro che li farebbe rinascere quei terreni ma non li vogliamo sull'agricoltura ma l'agricoltura ha bisogno dell'agrivoltaico perché forse qualcuno non se ne è accorto ma ci sono i cambiamenti climatici e di luglio e di agosto ormai non si riesce neanche a stare in campo perché si muore nei campi chiaro? pensate le colture i pomodori i cetrioli come sono contenti lo sapete che fanno stramazzano lo sapete che fanno le colture si stanno distruggendo l'eccesso di calore estivo sta masterizzando l'agricoltura italiana l'agrivoltaico è una forma giusta equilibrata di semicopertura che consente le coltivazioni dice ma dopo faranno la speculazione bene io non ho detto che noi non dobbiamo combattere gli speculatori ma l'agrivoltaico è una delle difese fondamentali per riportare la gente in campagna perché il contadino non ce la fa più l'estate tra le alluvioni al nord e le siccità o le siccità e le alluvioni non ce la fai stare come è stato quest'anno tre mesi a 38 gradi le colture sono morte ma dove cazzo vivete Dio Bono ma bisogna che le guardate di questi territori ubertosi che si sono sviluppati così tanto ma cosa ubertosi si è seccato anche il signore quest'anno perché era impossibile coltivare allora lo dico con serenità nonostante che mi arrabbio perché il cuore me lo spinge e chiedo scusa se mi sono arrabbato per favore e ho finito e ho finito l'agrivoltaico fatto bene studiato dai contadini per i contadini dagli studiosi eccetera è una delle nostre grandi risorse per far rinascere anche il paesaggio quello che è morto per far ripartire le foreste per far ripartire un paesaggio agricolo degno di questo nome scusate l'alterazione grazie grazie Pino richiedo ancora di essere più concisi molto rapidamente dibattito interessante e anche godibile devo dire due osservazioni la prima sulla sovranità è un argomento che non mi convince in generale neanche tra nazioni ma da calabrese parlare di sovranità energetica dalla Calabria francamente da calabrese che pur viva al nord è qualcosa che mi sembra fuori luogo anche perché in questo modo dovremmo allora accettare la logica dell'autonomia differenziata cioè che ciascuno nel proprio territorio se vale per l'energia questo potrebbe valere anche per altri argomenti è un argomento quindi che non ad opera e perché si ritorcerebbe contro noi calabresi e poi voglio dire che in generale Federico è stato ha svolto una discussione di apertura molto interessante sul nucleare io direi una questione da ingegnere nucleare quale sono anch'io e saluto tra l'altro il Angelo che è stato mio professore di misure nucleari e Angelo Tartaglia è un argomento che lui conosce molto bene il primo incidente di un grande di grande rilievo che fece scalpore e determinò l'opinione pubblica non solo americana ma anche internazionale per qualche tempo a raffreddare e tesiamo sul nucleare fu l'incidente di Tiramail Island che non fu tra l'altro un incidente tra i peggiori ne seguivano di peggiori però nel frattempo noi lo abbiamo dimenticato e oggi il nucleare è entrato come sapete incredibilmente nella tassonomia delle sostenibili se noi non spingiamo sul pedale delle rinnovabili vere il nucleare è dietro la porta anche perché c'è un argomento su cui dovremmo imparare questo mi piacerebbe che si potesse parlare si potesse parlare ancora che è questo che all'epoca già ricordo era molto forte noi abbiamo la Francia al confine con la Francia ci sono tre quattro importanti impianti nucleari e le aree urbane più vicine eccetto Lione sono quelle italiane Torino sostanzialmente quindi noi condividiamo i rischi della Francia ma non ne abbiamo i vantaggi che i vantaggi in qualche modo sono tradotti in questi anni nel fatto che la Francia ha avuto a disposizione energia elettrica a più basso costo questo è un argomento importante che noi dobbiamo vincere ma se noi resistiamo sulle rinnovabili può darsi che la breccia già aperta del nucleare di laghi ed è una cosa che per ragioni che penso condividiamo tutti non devo stare qui a raccontare grazie grazie Pino Enzo Scandurra sì io ringrazio Federico credo per questa sua brevità di relazione sia anche dovuto al fatto che abbia voluto rispettare un po' il tempo del dibattito sul paesaggio dico subito il paesaggio non è che cambierà con le paleoliche eccetera il paesaggio è già cambiato nel senso che sappiamo tutti che la marmolata per esempio il ghiacciaio della marmolata quasi non c'è più il ghiacciaio del Monterosa anche questo sta scomparendo eccetera eccetera quindi il paesaggio cambierà indipendentemente da noi anche se non facessimo niente voglio dire sarà un paesaggio infernale quello che quello che quello il paesaggio del futuro seconda cosa io condivido il discorso del del fatto che per quanto più possibile le comunità energetiche dovrebbero giocare un ruolo importante il problema è quello delle comunità che dovrebbero essere che devono essere al tempo stesso produttori e consumatori di energia quindi per quanto tra l'altro questo comporta una serie di vantaggi sul territorio nel momento in cui la produzione energetica per quanto possibile perché Federico l'ha detto molto bene i limiti che ci sono a questo per quanto possibile si è affidato appunto alla comunità di abitanti ultima considerazione qui non è stata toccata e cioè il problema delle città nelle città si consumano la maggior parte di CO2 lo sappiamo bene non c'è una città non c'è una città in Italia che stia facendo una politica urbana urbanistica diciamo per evitare il consumo di suolo cioè tutto quello che si fa voglio dire opere eventi fantasmagorie di tutti i generi voglio dire è fatto consumando suolo e assolutamente contro qualsiasi criterio di conversione ecologica io tra l'altro chiamo conversione ecologica devo guido viale questo termine che mi piace molto di più di transizione ecologica ecco e allora nelle città questo dovrebbe essere una un un tutti i sindaci quando fanno le elezioni i candidati quando fanno il momento delle elezioni dichiarano il consumo di suolo zero conversione ecologica eccetera eccetera ma poi non rispettano assolutamente questo criterio il consumo di suolo è spaventoso per le costruzioni a Roma voglio dire che sembra appunto una città amministrata voglio dire non certo da speculatori edilizi diciamo così però voglio dire il consumo di suolo è spaventoso si possono fare tantissime cose in città tra l'altro ci sono molte città che sono esempio di smantellamento di asfalti di 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 altri gli altri provvedimenti che sono molto importanti soprattutto per quanto riguarda le costruzioni cioè Milano per esempio è una città veramente assurda da questo punto di vista si continuano a fare grattacieli tra l'altro grattacieli che vengono fatte anche leggi per il condono di questi grattacieli eccetera che sono fortemente energiboli come voi potete immaginare insomma ecco allora anche la politica urbana si dovrebbe adeguare adeguare a questo criterio della sostenibilità cosa che secondo me non sta succedendo in nessun paese parlo per lo meno dell'Italia grazie grazie Enzo Mario Zambrini poi Walter Fratto buonasera a tutti io credo che si dovrebbe mantenere separati i due livelli diciamo globale quello del il tema della conversione ecologica o transizione secondo me come la vogliamo chiamare a livello nazionale e internazionale e i temi relativi ai singoli progetti io posso capire che ci si opponga ai singoli progetti per motivi più vari poi bisogna entrare nel merito richiamo richiamo il fatto che questi progetti vengono presentati ma non vengono automaticamente autorizzati che ci sono delle procedure di autorizzazione in questo paese che nella misura in cui funzionano consentono di stabilire se ad esempio in un comune ci stanno 14 impianti fotovoltaici o no tenete conto che molte volte quando si dice sono stati presentati 20 progetti sì è vero che sono stati presentati 20 progetti ma di questi 20 ne può passare uno perché gli altri insistono più o meno sullo stesso territorio questo vale sia per il fotovoltaico che per l'eolico sono d'accordo con chi diceva prima cerchiamo però di capire se stiamo ragionando se siamo allineati almeno sul tema di fondo perché noi stiamo cercando di costruire una strategia di conversione o transizione ecologica a fronte di un problema che è un problema gigantesco che riguarderà il nostro paese ma che riguarderà l'intero mondo e riguarderà in particolare il paese del terzo mondo per cui non è che possiamo dire noi non ce ne occupiamo è un problema di altri ma non possiamo neanche perché i paesi del terzo mondo saranno le prime vittime del cambiamento climatico e del riscaldamento globale poi anche il nostro paesaggio sarà vittima del cambiamento climatico e del riscaldamento globale quindi possiamo decidere di non fare niente e stare a vedere che cosa succede se decidiamo di fare qualcosa dobbiamo sapere e giustamente Federico lo richiamava in apertura quali sono i grandi numeri quanta energia dobbiamo produrre e come produrla e dove andiamo a localizzare gli impianti per produrla perché se no stiamo parlando di così un po' del più o del meno è ovvio che una transizione ecologica seria non potrà basarsi esclusivamente sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perché dovrà andare di peri passo con politiche di efficientamento del consumo energetico e con politiche anche di contenimento dei consumi energetici perché questo è diciamo il tema ma le fonti rinnovabili sono un perno fondamentale uno dei tre forse il più importante di questa politica e su questo bisogna che in un qualche modo ci mettiamo d'accordo se poi cominciamo a dire sì però non qui io continuo a leggere noi non siamo contro le fonti rinnovabili ma questo impianto non va bene e se tutti dicono così non se ne fa non se ne fa neanche uno c'è un tema diciamo importante dal punto di vista anche proprio questo riguarda in particolare il nostro paese noi siamo un paese strano diceva prima Scandura c'è un tema urbanistico certo che c'è un tema urbanistico noi siamo un paese che non ha una legge sul regime dei suoli degna di questo nome purtroppo e questo spiega ad esempio perché gli impianti fotovoltaici non vengono realizzati su terreni su aree dismesse perché le aree dismesse essendo state oggetto di trasformazione urbanistica hanno delle aspettative di rendita che sono incompatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici chi ha un'area logistica magari anche dismessa ma il proprietario dell'area logistica dismessa non ci mette un impianto fotovoltaico penso di farci qualcosa di ben più remunerativo perché è un'area trasformata urbanisticamente destinata a restare tale vita natural durante e allora concludo teniamo conto quando parliamo di speculazione consumo di suolo devastazione tutte queste cose che si leggono a proposito impianti a fonti rinnovabili che gli impianti a fonti rinnovabili a norma di legge in Italia e in Europa vengono realizzati possono essere realizzati su terreni agricoli senza cambiare la destinazione d'uso del suolo e questo è un elemento fondamentale perché vuol dire che gli impianti fotovoltaici anche i più grandi impianti fotovoltaici o agrivoltaici o chiamateli come volete non generano aspettative di carattere speculativo perché quei suoli che vengono occupati temporaneamente da un impianto fotovoltaico hanno una destinazione agricola e quella destinazione agricola la mantengono a norma di legge e quindi quando si scoprisse finalmente che ne so la fusione o qualche altra miracolosa fonte di energia possono essere smontati ma quei suoli non saranno suoli edificabili su cui qualcuno riterrà di dover realizzare villaggi centri commerciali o quant'altro torneranno a essere suoli edificabili non è una differenza di poco conto quindi parlare di speculazione a proposito di impianti e fonti rinnovabili è oggettivamente improprio poi è evidente che ci sono proponenti e proponenti ci sono quelli seri quelli meno seri ci sono quelli che come è stato detto presentano i progetti a granulate quelli che li copiano dagli spagnoli e lo so il mondo va così ma ripeto ci sono delle procedure di autorizzazione e delle strutture pubbliche deputate ad analizzare i progetti e a valutarli che sono lì per controllare esattamente questo che i progetti siano sensati stiano in piedi abbiano una loro logica se non accettiamo questo tipo di impostazione ritorniamo al punto di partenza stiamo a vedere che cosa succede ma stiamo a vedere che cosa succede in questo momento significa diciamo comunque condannare il paesaggio italiano e non solo italiano a una modifica dagli esiti ad oggi imprevedibili ma sicuramente non marginali grazie grazie a te Walter Fratto ci sono mi sentite? sì? sì sì prego scusatemi allora non riesco a mettere vedo se riesco a mettere il video non so come non riesco a mettere dovrebbe essere un'iconcina con il telecamera dunque ho una un'altra pagina di appunti per quello che è stato detto sui quali vorrei ma penso che sia difficile che riesca a trovare e quindi seguiamo la critica storica di mia figlia partiamo dalla pre-storica allora scusatemi ma il fine delle energie rinnovabili cioè il nostro affannarsi a produrre energie da fonti rinnovabili quanto vale? quanto pesa a livello mondiale? visto che parliamo sempre di studi uno studio più o meno universalmente accettato parlano del 0,7% di CO2 a livello mondiale se l'Italia azzerasse completamente non è possibile azzerarla completamente ma se azzerasse tutta la CO2 clima alterante e questo vuol dire che siamo sostanzialmente insignificanti da questo punto di vista in questo processo oggi proprio oggi ho letto che la candidata democratica americana alle prossime elezioni ha dichiarato che non seguirà più le energie green le energie alternative non è vero l'ha pubblicato non è vera questa cosa non lo so io l'ho letto non è vero l'hai letta sui baci perugini prego non è vera l'hai scritta ma non è vera confrontati sui giornali e controlla non è vera questa cosa va bene prendiamola per buona ma resta comunque per buona anche la prima osservazione che dal punto di vista della quantità di CO2 che noi riusciremmo ad abbattere qui al 2050 o 2040 visto che le date sono ballerine adesso sarebbe lo 0,7% mondiale in cambio di che cosa allora io faccio un ragionamento un po' più diciamo semplice sostanzialmente da qualche parte si è accertificato che esiste un cambiamento climatico anche se io personalmente mi terrei anche il dubbio che possa esserci qualcos'altro come il 3% degli studiosi dicono che accade sul 97% degli studi c'è un 3% di studi che dice che il cambiamento climatico non c'è e io questo dubbio scusatemi ma me lo tengo anche però alla fine che cosa succede succede che la comunità europea decide di essere praticamente ad impatto climatico zero ed abbattere tutta la CO2 e noi quello che abbiamo realizzato dalla fine del novecento fino al 2022 entro il 2030 lo dobbiamo raddoppiare ed entro il 2050 lo dobbiamo raddoppiare ancora io da casa mia vedo 316 pale se volete vi mando pezzetti di foto ma devo aspettare tanti giorni per farvele vedere tutte sono 316 pale che sono collegate una con l'altra che sono raggiunte da strade di grande dove sono passati mezzi di una certa dimensione per poter portare le pale a una certa altezza e sono percorse anche da cavidotti che vanno verso le centrali di smistamento e centrali di smistamento che fino a questo momento qualcuno diceva non ho mai avuto la possibilità di verificare qualcuno diceva che non erano in grado di sopportare la quantità di energia un piccolo inciso perché qualcuno l'ha detto sulle centrali idroelettriche della Calabria la centrale di Timpa Grande e di Calusia non so se lo è ancora ma fino a qualche anno fa era la centrale che serviva a rimettere in moto tutto il sistema elettrico italiano in caso di blackout una insieme ad altre del nord Italia che adesso non ricordo quali sono però la cosa curiosa la centrale di Calusia inaugurata da Vittorio Emanuele II posso chiederti per favore di non toccare il microfono perché si sentono degli sgrosci ah no scusami ho la cuffia quindi probabilmente balla lo tengo fermo grazie la centrale di Calusia nel secondo dopoguerra ha permesso l'installazione di industrie inquinanti a Crotone la Pertusola la Fosfotec la Montedison che avevano un prezzo dell'energia agevolato per potersi insediare e quindi hanno trovato convenienza perché evidentemente i loro prodotti diventavano immediatamente competitivi nel mondo e hanno potuto invadere il mondo dei loro prodotti piccolo problema oggi Crotone sta lottando con lo smaltimento di tutte le scorie inquinanti cancerogene che hanno grandi problemi anche di inquinamento dell'acqua addirittura mi dicono dei colleghi degli amici subacquei mi dicono che di notte in certe condizioni è possibile vedere i ricci fosforescenti perché vivono sul substrato di fosforo che hanno buttato come scarti dalla Fosfotec non so se è vero perché non l'ho mai verificato però voglio dire adesso i prezzi si trovano con il regalino che ha lasciato dentro una scelta di pagare a costo agevolato l'energia elettrica che è quello che si sta verificando dal 2025 noi avremo delle agevolazioni che mi sembra sostanzialmente un baratto statevi buoni e lasciatevi rovinare lasciatevi rovinare significa veramente lasciarsi rovinare sono stati messi un pochino come dire qualcosa di di poco i danni di tipo idrogeologico i danni di tipo ambientale la riduzione del manto arboreo la modifica della reggimentazione delle acque il possibile intercettamento di paldeacquifere l'impossibile inquinamento che viene da olio che serve per far girare le paleoliche o da gas refrigerante quando la paleolica cade anche se le percentuali sono poche il gas refrigerante che c'è nelle paleoliche è 36.000 volte più clima alterante della CO2 e quelle paleoliche che dovrebbero garantire la transizione energetica ha proprio questo gas dentro allora noi stiamo facendo una cosa che mi sembra un po' un mordersi la coda e dove la facciamo questa cosa la facciamo in Calabria perché la facciamo in Calabria c'è più vento bellissimo straordinario un ingegnere sardo che lavora in Danimarca non mi viene il nome ma ve lo posso far sapere dice che una paleolica è economicamente conveniente con 4.500 ore di vento i primi dati ufficiali che sono stati pubblicati da Anev mi pare dicono che noi in Calabria abbiamo avuto 1.400 ore di vento utili secondo me è una bugia secondo me le ore di vento utili davvero sono state intorno a 600-700 ore non di più al 2030 queste ore di vento utili diventano magicamente 2.000 diventano magicamente 2.000 probabilmente sicuramente non perché aumenta il vento ma perché aumenta probabilmente la tecnologia cioè la capacità di far muovere queste pale sempre più grandi con una minore quantità di vento questa quantità di vento che è utile oggi per far muovere le pale di nuovissima generazione è presente in quasi tutta Italia però anche qua abbiamo sentito dire faremo fino a questo momento l'eolico è tutto in Italia in sud Italia è tutto progettato e realizzato in sud Italia e anche questo è stato messo leggermente alla berlina e i progetti presentati leggo anche questo in uno studio sono da 5 a 7 volte e qualcuno dice anche 10 volte l'energia alternativa che a noi servirebbe per azzerare la CO2 voglio dire un'altra cosa anche la Calabria se non ricordo male 17 terawatt 17,1 terawatt di energia elettrica prodotta nella regione non prodotta dai calabresi prodotta da imprenditori che operano nella regione noi ne consumiamo 6 ne esportiamo 11 questo surplus di energia viene da 4 centrali a combustibili fossili adesso vi rendete conto nessuno lo ha detto che restare come energia solo con le rinnovabili è un suicidio è un suicidio per il senso emotivo che proprio perché sono rinnovabili sono legate ai capricci del momento e i capricci del momento sono quelli del vento e del sole potrebbe non esserci vento potrebbe non esserci sole e una città come Roma Milano Napoli Palermo ma anche Catanzaro nel suo piccolo se si fermano paleoliche pannelli fotovoltaici perché non c'è vento e non c'è sole io spesso come li fa funzionare quindi diciamo che credo abbastanza difficile oggi perché parliamo sempre che domani avremo l'accumulo domani avremo sicuramente l'accumulo di energia ma oggi non ce l'abbiamo e quindi quattro centrali a combustibili fossili non si possono chiudere ma visto che la nostra lotta iniziale è quella contro la CO2 ne possiamo chiudere tre perché in questo modo saremmo un bellissimo colpo alla produzione di CO2 clima alterante però di queste tre a chiudere non ne parla nessuno non ne parla nessuno perché l'obiettivo che fino a questo momento non dichiarato è quello di continuare a produrre energia sempre di più sempre di più per il semplice motivo che ci sono industrie che sono energivero al bello mondiale che ci navigano in questo meccanismo e ci navigano bene facciamo l'esempio della Microsoft con la Meloni si è incontrato per comprare i siti di due tre quattro adesso non ricordo centrali a carbone dismesse in Italia perché vorrebbe fare dei data center non so se qualcuno di voi ha visto una trasmissione di report dove hanno fatto vedere i data center se non sbaglio in Irlanda hanno fatto vedere una distesa immensa di rack che contenevano hard disk di memoria per tutte le nostre conversazioni i nostri i nostri messaggini le nostre immagini i nostri saluti li troviamo tutti quanti perché sono conservati da quella parte il giornalista a un certo punto ha fatto vedere anche quello che c'è sotto Iraq sotto Iraq ci sono immensi impianti di raffreddamento e a un certo punto disse il tipo se questo impianto di raffreddamento si dovesse fermare solo per cinque minuti tutto qui va tutto questo va a fuoco allora quelle società sono società sicuramente energivore e queste società energivore sono quelle che in questo momento sono quelle che in questo momento stanno comprando in assoluto i certificati verdi che vengono prodotti quando una paleolica viene messa in piedi notare bene non che produce viene messa semplicemente in piedi non è necessario che produca se poi andiamo a vedere alcuni studi io ne ho trovato uno solo certo sulla sulle biomasse della centrale del mezzo scusi scusi abbia pazienza e solo per chiarimento non si danno più contributi in conto capitale alle energie rinnovabili le energie rinnovabili si ripagano esclusivamente questa è una base del suo errore ma questo è un dato oggettivo esclusivamente si producono cioè vengono le energie il fotovoltaico si ripagano arrivo il l'eolico ha ancora una piccola parte di incentivo ma sulla produzione in conto capitale non viene dato un euro questo mi perdoni assolutamente oggettivo lei non può mi perdoni d'accordo ci confronteremo anche su questo ci confronteremo anche su questo però non volevo fare un battibecco non volevo fare un battibecco mi perdoni in bollezza ci sono gli oneri di sistema gli oneri di sistema sono il 22% di quello che io consumo in bollezza nel 22% le voci finanziate sono tre una di queste tre sono energie alternative quindi che non ci sono finanziamenti lei lo prendo per buono ci mancherebbe mica voglio però se permette nella bollezza dove vanno a finire saranno come le accise della guerra in Eritrea in conto capitale significa che uno fa una paleolica ma se quella paleolica non gira non prende un euro io poco fa stavo parlando di incentivi non sto parlando di conto capitale io poco fa stavo dicendo stavo citando uno studio della centrale del mercure se lei non mi interrompe io finisco stavo parlando della centrale del mercure dove su 50 milioni di fatturato non mi ricordo in che periodo in quanto tempo un milione è di vendita di energia elettrica e 49 milioni sono di sovvenzioni incentivazioni o come volete chiamarle voi di una paleolica ho fatto un'indiscrezione giornalistica e confesso di non essere riuscito a trovare lo studio relativo mi dicono che su 10 milioni di euro complessivi 3 sono di vendita di energia elettrica e 7 sono di inventivi allora noi stiamo lavorando per queste industrie queste industrie producono certificati verdi questi certificati verdi li comprano le grandi major dei grandi social mondiali e questi qui adesso si stanno comprando le nostre centrali a carbone per fare i loro data center per mettere i nostri messaggini allora tutto questo meccanismo lo paghiamo noi e nelle ultime nelle ultime cose processi che si sono sviluppati addirittura queste società che fanno paleoliche o pannelli fotopolsaici possono espropriare non e quindi noi stiamo incentivando l'acquisto di porzioni di territorio nostro finanziando con le nostre bollette che noi paghiamo e non mi sembra molto molto morale l'ultima notazione che voglio dire è ma scusate un secondo ma alla fine vita questo io non l'ho trovato da nessuna parte vorrei avere i riferimenti di quello che ha detto il signore che ha interrotto prima a fine vita noi ci troviamo con grossomodo 6.000 impianti produttivi nei posti più o oggi nei posti più o meno della calabria che la calabria non abbia paesaggio lo prendo dai capelli chiunque ha il coraggio di dirlo e lo vado ad accompagnare in posti meravigliosi che ancora la calabria tiene e per fortuna ancora in maniera molto consistente che ci stiamo giocando proprio con questo giochino delle energie rinnovabili allora se l'ISPRA dice che ci sono mille di numeri dice che è possibile realizzare fino a 70 non mi ricordo più la quantità terawatts no di più gigawatt di energia ma noi fino al 2030 la dobbiamo produrre 60 quindi già con il terreno con la modalità prodotta dall'ISPRA noi avremmo già risolto una parte immediata del nostro problema al 2030 abbiamo tempo per organizzarci perché le superfici sono tante ma se noi dobbiamo pensare che l'investimento incentivato da noi non viene realizzato sui parcheggi delle autostrade poi sui parcheggi dei supermercati ditemi qual è la differenza con l'agrivoltaico messo in piedi a un metro e settanta da terra bisognerebbe portarlo a due metri due metri e venti quindi non è che il costo sia molto diverso perché non sui parcheggi cioè noi stiamo lavorando per queste imprese che non ci lasciano assolutamente nulla neanche scampo grazie ho finito ho finito perché ne avrei ho ancora preso solo ah no solo una cosa posso posso dire una cosa allora l'impianto Enotria l'impianto Enotria da quello che ho visto è progettato per per un mare che ha un fondo mobile piatto mi viene in mente che l'unico mare piatto effettivamente è quello del mare del nord dove sono nati la maggior parte di questi progetti peccato che nello stesso progetto Enotria si dice che superiore a 250 metri la catenaria per l'ancoraggio dei galleggianti di ogni singola paleolica non può essere considerata perché il peso della catena stessa sarebbe comprometterebbe la stabilità del galleggiante il mare del nord ha una profondità media da 80 a 100 metri non penso che l'Adriatico a nord sia molto più profondo di questo il mare Ionio calabrese ha una profondità media di 4000 metri e ha un piccolo particolare non so se il calabrese si ricorda della definizione di giuttino fortunato si può per favore mantenere i tempi di avete ragione insomma per farla breve una catenaria per tenere un galleggiante la sta facendo lunga non breve circa 2 km 400 metri che non so se il progetto è realizzabile grazie scusatemi è che veramente siccome è una discussione appassionante ci sono punti di vista sicuramente diversificati è bene anche poter dare la parola a tutti credo poi magari con Piero ne ragioneremo sicuramente se ci sono contributi scritti come Transform noi li possiamo pubblicare magari lavorare anche a una nuova iniziativa diciamo non concludendo qui non è il nostro compito concludere nulla se non quello di appunto deve avere una discussione tra di noi chi è esperto chi è meno esperto chi è attivista e chi non lo è e credo che tutti noi condividiamo la necessità di una uscita dall'energia fossile e trovare il modo attraverso cui si possa fare senza impattare principalmente senza consegnare i territori alla speculazione finanziaria penso che sia una cosa condivisa da tutti quanti quindi vorrei rassemerare un po' agli animi e dare almeno dei punti di ancoraggio a questa discussione credo che ci sia Natalina Raffaelli io volevo però intervenire avevo aveva alzato la mano Roberto forse perché siccome hai parlato può dire può intervenire brevemente perché ha già fatto il suo intervento allora prima di Natalina chiederei a chi ancora è intervenuto quindi Angela Maida Piero prego guardi io dovrei anche andarmene mi dispiace ho anche un altro impegno quindi se posso solo due parole ok ecco grazie allora guardi io a nome del coordinamento regionale controvento giusto due parole per dire che noi stiamo raccogliendo le preoccupazioni alla diffidenza nei confronti di questo fenomeno del proliferare di impianti eolici fotovoltaico a terra che stanno sconvolgendo la vita di agricoltori e apicoltori quindi sconvolgono territori attraversati da cavidotti e comunque sia anche gli spropri di cui già si è parlato io mi assoggio agli interi totalmente agli interventi di sia dell'avvocato Raffaelli di Natalina Raffaelli sia anche di Nicoletta Radatta quindi non sto a ripetere ma te pienamente concordo con quanto è stato detto su tutto però c'è un argomento di cui non è stato parlato è della biodiversità che si va a intaccare profondamente qui in Calabria ma sapete che in Calabria abbiamo una grandissima biodiversità ma questi impianti che dovrebbero essere come dire a favore della insomma servono per produrre energia senza produrre però CO2 ma noi tagliamo gli alberi che producono che consumano CO2 e producono ossigeno ma noi stiamo sconvolgendo le nostre montagne i nostri boschi stiamo rinunciando a tutto non è vero che non è impattante impatta come sul paesaggio su ambiente e sul biodiversità su terre che per noi sono vitali per noi per la nostra cultura e per la biodiversità quindi c'è come c'è l'impatto e non è vero che questi impianti vengono in qualche maniera limitati perché qui c'è un proliferare impressionante da noi si vedono paesaggi completamente in base da paneoli che sembrano dei cimiteri non va bene più questa cosa e veramente abbiamo superato ogni limite e poi inoltre gli alberi oltre a conservare tanta biodiversità produrre ossigeno raffrescare l'aria che noi sappiamo benissimo tutte queste cose le sapete tutti ma sono anche dei regolatori climatici quindi insieme a ghiacciai e ai mari quindi questo stravolgere per esempio per poter attraversare con questi enormi rotori ed enormi pale i territori devono allargare le strade devono spianare devono tagliare tutte quante le curve quindi anche solo per il trasporto stravolgono poi anche negli impianti a mare quando sbarcano a terra attraversano anche i territori quindi ci sono cavi dotti che vanno a intaccare persino aree naturalistiche zone a protezione speciale quindi insomma non c'è veramente questa attenzione che noi invochiamo veramente con cuore vi ringrazio grazie a te Piero sì rapidamente nella misura del possibile allora è evidente come l'ha impostato giustamente Federico che a questione delle energie rinnovabili investe il modello di sviluppo capitalistico in questo caso del nostro paese e l'assetto del nostro territorio ha fatto bene secondo me Enzo e Toscandur a ricordare il ruolo delle città ma le città il consumo di suolo produce CO2 e quindi partecipa attivamente al riscaldamento climatico ma non si fa nulla per impedire il consumo di energia con la piantumazione di alberi con la piantumazione di orti cioè con l'ingresso della campagna all'interno della città la città viene vista soltanto il suo territorio viene visto come occasione di edificazione di assaltamento e così via tra l'altro dovremmo ricordarci che la città è un ecosistema e che per esempio in molti luoghi dismessi dovrebbero avere posto cisterne per la conservazione dell'acqua piovana che diventerà sempre più preziosa nei periodi di prolungata siccità estiva l'acqua è un bene è una risorsa sempre più preziosa e gli spazi servono gli spazi urbani servono anche a questo fine tra l'altro dimentichiamo che si può risparmiare l'energia elettrica io sono rimasto sempre senza diciamo con questo interrogativo perché ricordatelo mi rivolgo ai più anziani naturalmente dopo la guerra del Kippur nel 1973 c'è stata la cosiddetta stagione dell'austerity come si chiamava in inglese il risparmio di energia elettrica che si metteva in atto nelle città la notte i negozi le vetrine non c'era non c'era questa luminosità sgargiante che caratterizza che produce inquinamento inquinamento luminoso che come sapete crea anche danni agli uccelli agli animali eccetera allora perché non si riduce il consumo inutile di energia elettrica durante la notte ma un argomento importante riguarda le campagne riguarda la nostra agricoltura io allargo la statistica che ha fornito Federico e vi ricordo che tra il 1970 e il 2017 sono scomparsi sono scomparsi 4 milioni di ettari di suolo fertile e sono erano aziende agricole aziende agricole che non dobbiamo dimenticarlo non c'è solo l'aspetto produttivo erano aziende agricole collinari cioè dell'area territoriale più estesa della penisola e le colline e le montagne formano un ecosistema particolare dell'ostivale italico perché quei luoghi abbandonati erano presidi presidi dove i contadini dove i boscaioli dove coloro che vivevano le popolazioni che vivevano esercitavano un controllo e una manutenzione del territorio ora quei territori sono abbandonati e naturalmente i fenomeni atmosferici e senza filtri precipitano violentemente a valle nelle pianure eccetera le pianure naturalmente sono inquinate perché lì si concentra all'agricoltura industriale e così via allora per farlo a breve il problema delle energie rinnovabili ci pone davanti a una grande possibilità cioè quello di inaugurare una politica di programmazione del territorio che mette il centro mette al centro lo Stato e le autonomie locali in maniera tale che non sia lasciata alla violenza al disordine e all'arbitrio del mercato il suolo della penisola ma sia appunto programmato tenendo conto delle varie esigenze in questo modo si esalta anche la democrazia perché la popolazione è chiamata a discutere si decide si litiga naturalmente come stiamo litigando anche noi urbanamente questa sera e poi si prendono delle decisioni a maggioranza questo sarebbe un salto politico straordinario per il nostro paese e ne abbiamo bisogno perché noi abbiamo il paese dopo l'Olanda ma forse più dell'Olanda più artificiale più diciamo artefatto d'Europa l'abbiamo costruito permettete che lo dica io che sono uno studioso della bonifica oltre che uno storico dell'agricoltura il nostro è un perfino le colline le colline toscane sono frutto della bonifica di colmata che sono state fatte in età tra l'età moderna e l'età contemporanea quindi è un territorio che va mantenuto con la partecipazione delle popolazioni questo farebbe l'originalità del nostro approccio al problema delle energie alternative grazie 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 a te Piero e un altro Piero Mazzinghi chiedo di stare nei cinque minuti per favore anche per consentire poi Federico Buttera di una breve replica Piero non c'è? Marina? No no c'è Piero Mazzinghi non ti ha sentito Piero Mazzinghi che aveva alzato la mano ma probabilmente fuori o non riesce a connettersi quindi do la parola a Marina sì buonasera io brevemente volevo solo aggiungere alcune cose e sottolineare alcuni aspetti per esempio quello relativo al fatto che con il fotovoltaico per esempio appunto i territori i terreni possono essere valorizzati quindi sentire sentire dire che si sacrificano dei territori alle rinnovabili mi risulta veramente veramente strano in quanto per esempio per quanto riguarda sempre il fotovoltaico il territorio con l'agrivoltaico può fornire prodotti agricoli anche in condizioni diciamo vantaggiose perché con meno acqua e con diciamo con più ombreggiatura si possono ottenere prodotti che invece con il cambiamento climatico col collasso climatico non riusciamo più ad ottenere oppure con grande dispendio energetico quindi sinceramente io tutta questa e poi ecco voglio sottolineare come appunto il fotovoltaico questi impianti non comportano assolutamente una cementificazione del territorio nel senso che l'impianto fotovoltaico può essere installato su strutture che poi possono essere rimosse facilmente qualora si decidesse di cambiarlo ovviamente le speculazioni selvagge gli squali quelli che non lasciano niente poi sulla come ricchezza come ricaduta di ricchezza sul territorio devono essere contrastati ma questo timore generale generalizzato che vede questa questo cambiamento del territorio come distruzione come devastazione sinceramente non lo capisco abbiamo subito di tutto in Italia dalla vera cementificazione edilizia dalla addirittura nei letti dei fiumi in Emilia Toscana abbiamo assistito in Emilia Romagna abbiamo assistito negli ultimi anni e anche recentemente ad inondazioni e allagamenti perché si è costruito anche negli ultimi anni sui letti dei fiumi e adesso stiamo sollevando tutti questi problemi perché perdiamo la bellezza del territorio con le pale eoliche e con gli impianti fotovoltaici sinceramente mi sembra un'assurdità ci sarebbero anche altri aspetti da da sottolineare però in questo momento proprio per visto che siamo ormai alla Fuenzo alle conclusioni quasi lascio la parola agli altri grazie Marina Tamara sì io farei una proposta che non è molto generosa nel senso che chiedo agli altri senza rendermi disponibile a fare niente diciamo in proposito però credo che una discussione come quella di stasera è stata assolutamente di grande interesse e di grande valore ma al tempo stesso ci lascia un po' tutti insoddisfatti nel senso che come sta succedendo ora in cui ci sono moltissime persone e organizzazioni che fanno un lavoro di approfondimento tematico di grande livello e poi manca il livello intermedio cioè il livello che dai concetti complessi e articolati ne fa un lavoro più di divulgazione per persone che non sono informate nel modo completo e che di fatto non si azzardano nemmeno a affrontare problemi così complessi per cui si rimane con tante realtà tante organizzazioni ognuno dei quali fa un lavoro splendido gigantesco di approfondimento e poi però non c'è comunicazione fra le varie realtà vengo alla proposta ma questo è un minimo di premessa la volevo fare perché non si mette insieme mette insieme scusatemi non si non si mettono insieme tre quattro persone oggi che hanno esposto anche opinioni diverse sulla cosa e insieme si riesce a fare un tot di domande di problematiche otto nove massimo nove diciamo no in cui si individuano i temi che andrebbero risolti e magari accanto sempre a livello molto schematico roba di un paio di pagine per dire per dire in cui si danno le alternative presenti che allo stato attuale vengono valutate anche con punti di vista diversi ecco io credo da ignorante in questo tema perché in effetti sono voluta ho voluto partecipare a questa proprio per questo motivo perché mi sono occupata sempre di altre cose e non ha senso che ora ne parli ma mi sembra che il valore di tutte le cose dette oggi non debba essere perso ecco e quindi in questo senso un qualcosa non solo sotto forma di documento ma sotto forma proprio di punti di domande diciamo quindi mi andava questo di dirlo grazie questo non ti esime di farle queste domande così mettere anche tu per scritto questo io non lo potrei fare sono troppo ignorante nel merito va bene allora c'era Pietro Piero scusa Piero Mazzini c'è ancora sì certo io da ex ricercatore volevo fare un intervento un po' tecnico però ho sentito ultimamente delle cose che vanno sicuramente discusse una cosa che mi fa molto arrabbiare è il fatto l'Italia emette solo lo 0,7% di class climalteranti quindi non facciamo nulla questo è lo stesso discorso dell'evasore fiscale le mie tasse sono solo lo 0,01% dell'input dello Stato quindi non le pago ognuno deve fare la sua parte nel mondo ci sono 200 paesi ognuno deve ridurre le proprie emissioni se l'Italia è lo 0,7% deve fare quello 0,7% l'altra cosa è che si fermi alla prima parte di quello che ha detto perché la seconda io non l'ho detta comunque la situazione è così il 3% poi degli studiosi non non è d'accordo sulla causa umana dei cambiamenti climatici questo è un esempio che fa il mio amico e collega Nicola Armaroli mettiamoci in queste condizioni c'è un ponte che mi sembra sta per crollare lì vicino ci sono 100 ingegneri e dico ma secondo voi crolla 97 dicono di sì non ci passare 3 dicono sì no no non crolla poi vedi che due dei tre sono quelli gli ingegneri della ditta e l'ha costruito uno è un ingegnere elettronico non ci sia niente te che fai ci passi sul ponte poi l'altra cosa contrario l'esempio ora non interveniamo per favore che hai già parlato poi il 100% rinnovabile non è possibile chi l'ha detto allora ci sono fior di studi da parte delle migliori università mondiali per esempio quello più noto è quello di Stanford che dice che è possibile l'hanno pubblicato su tutte le migliori riviste mondiali con tutti i calcoli allora fatti da decine di ingegneri fisici climatologi esperti ed elettronica e di economia dicono che è possibile se qualcuno dice che non è possibile prenda scrive dove hanno sbagliato questi e se lo pubblica sul nation guarda che io ho detto oggi in Calabria non si possono chiudere tre centrali termoelettrica su quattro non si possono infatti questo oggi non ho parlato di domani non mi travisi quello che ho detto oppure se lo registri senta meglio per favore va bene comunque il 100% è possibile solamente con le rinnovabili poi cose più più tecniche le le turbine eoliche alte le turbine eoliche devono essere alte perché la produttività di una turbina va con il quadrato dell'altezza e con il cubo della velocità del vento che è più alto che cresce con l'altezza quindi se invece di una turbina da 200 metri le vogliamo mettere da 100 metri ne servono 15 se le vogliamo mettere da 50 metri ne servono 200 quindi le turbine devono essere alte poi un'altra cosa non confondiamo l'agrivoltaico con il fotovoltaico a terra che sono due cose completamente diverse ve lo dice uno che ha studiato per 20 anni la fotosintesi bene allora quasi tutte le culture adesso hanno bisogno di orbreggiamento e se devo fare l'ombreggiamento perché non farlo con con i pannelli fotovoltaici invece che con delle reti passive questa me la segno fra tutte le culture sapete ci sono due tipi di fotosintesi la C3 e la C4 indipendenti da quanti atomi di carbonio usano nella reazione quasi tutte le piante sono C3 le C4 sono praticamente solo il mais il sorgo della canna da zucchero che avendo questa fotosinti diversa non hanno quella che si chiama la fotoinibizione quindi qualunque quantità di luce continuano a fotosintetizzare le altre no se la luce è troppa non solo non fotosintetizzano non solo non assorbono più CO2 ma la emettono quindi l'ombreggiamento è necessario un'azienda agricola del futuro sarà coperta su tutte le culto a meno che non faccia mais sarà coperta di pannelli fotovoltaici che userà l'energia la propria energia per caricare le batterie del trattore elettrico per scaldare le serre per alimentare i servizi delle stalle cioè si produrrà la propria energia in maniera completamente senza emissioni se poi pensiamo che basti il fotovoltaico sul tetto sui detti tutti gli studi dicono che al massimo ci facciamo il 15% dell'energia quindi il fotovoltaico a terra e l'eolico sono assolutamente necessari perché ricordiamoci che l'eolico è complementare al fotovoltaico perché produce anche di notte produce maggiormente in inverno e poco in estate quindi vanno accoppiate tutte e due e questo è connesso anche il fatto che non è possibile quella che sia l'autarchia a un certo punto ogni regione si produce la propria energia proprio perché le rinnovabili sono variabili è assolutamente importante che ci sia una griglia le smart grid che trasporta l'energia da dove c'è a dove ce n'è bisogno e non è detto che sia in un'unica direzione perché che so al sud che c'è più sole e più vento produrranno di più però avranno bisogno delle dighe del nord per 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 l'accumulo per quando non c'è solo il vento l'energia andrà in senso inverso bisogna fare una media e neanche a livello nazionale dovrà essere fatta anche a livello internazionale l'ultima cosa sì i progetti sono bisogna controllare molto la qualità dei progetti e questo è un compito non solo dell'istituzione ma anche di noi cittadini qui io abito nel Mugello c'è la diatriba sul nuovo parco eolico che andrà fatto nel Mugello ho letto tutto il progetto non il progetto preliminare su cui viene fatta la prima approvazione il progetto definitivo ed è di estrema buona estremamente buona di qualità con tutte le un esempio nel fare le piste per portare i componenti alle turbine viene sfruttata una uno scavo che era stato fatto per installare un gasdotto perché ora il fatto che viene disboscato per il gasdotto non viene frega nulla a nessuno se viene disboscato per fare la pista per l'accesso alla turbina si arrabbiano tutti hanno fatto un progetto molto più complicato e molto più difficile da realizzare e da di accesso ai mezzi per non produrre altri danni all'ambiente questo è un esempio di tutte le cose che si vengono fatte e possono essere fatte per minimizzare l'impatto delle delle energie rinnovabili basta mi fermo qui grazie io ho ancora Natalina Raffaelli a cui chiedo di essere sintetica visto che ho già parlato si poi concludiamo Roberto poi si volevo dare perché Federico vorrà dire qualcosa assolutamente si vorrevo semplicemente rispondere alle osservazioni che sono state fatte perché siamo stati trattati un po' da ignoranti che non capiscono niente questo è stato il senso di alcuni interventi e invito le persone ad andare a leggere il progetto Enotria e vedere se le pare hanno l'altezza di 355 metri e vengono insistono sul mare territoriale quindi a distanza inferiore ai 12 chilometri non esistono quelle turbine al mondo adesso parlo io per favore e non solo per favore per quanto riguarda l'impatto sulla fauna viaria ricordo che il parco di Londra al parco di Londra non è stato realizzato il secondo lotto il secondo progetto proprio per l'impatto che aveva sulla fauna viaria qui abbiamo delle pale che avranno il colore grigio e non avranno nessuna segnalazione per gli uccelli siamo su una rotta migratoria vengono realizzate sulla rotta migratoria dove ci sono il passaggio delle verte sono uccelli che pescano si nutrono della fauna marina fino a 150 chilometri dalla costa noi le mettiamo a 12 chilometri dalla costa e il parco eolico ha una superficie marittima richiesta solo quella marittima perché poi c'è quella terrestre di 247 chilometri quadrati non metri quadrati non ettari chilometri quadrati ho finito grazie bene grazie grazie a tutti è evidente che non si esaurisce qui come ho detto magari con Piero ragioneremo su riprendere questa discussione anche facendo tesoro della proposta di avere alcuni punti tematici da approfondire quindi vi invito anche a segnalare quali sono le cose su cui poter approfondire prossima volta tanto volevo dare la parola a professor Federico in modo da poter chiudere sì grazie molto molto brevemente veramente tardi ma diciamo che gran parte delle osservazioni che avrei fatto sono state già fatte fatte da molti che mi hanno preceduto notazioni un po' di carattere generale molta passione poca informazione questo è un po' un elemento fondamentale e questo sta a dimostrare che questa transizione che dobbiamo fare è veramente difficile perché richiede una trasformazione culturale che è estremamente profonda e che include anche una trasformazione estetica cioè non si vuole ammettere è comprensibile che il mondo sostenibile anche a guardarlo sarà e deve essere diverso da quello insostenibile in cui stiamo vivendo uno si domanda perché c'è questa resistenza al cambiamento perché la gente non si è preoccupata del fatto che l'autostrada ferisse in maniera assolutamente irreversibile un paesaggio io ricordo la prima volta che sono stato al teatro greco di Segesta dalle gradinate vedevo un panorama meraviglioso che arrivava fino al mare se c'è andato adesso questo panorama è spregiato dall'autostrada e adesso gli è andato bene perché questo perché i tradici dell'alta tensione non hanno creato tante tante reazioni il disboscamento per pari gasdotti perché non hanno protestato sapete perché perché tutta questa roba si trasformava si verificava in termini percepibile vantaggio che io ne posso avere ah sì certo è brutta l'autostrada però maledizione io vado a trovare mia madre in 30 minuti invece che che in tre ore traliccio si è orrendo lì nei boschi però adesso ho la luce elettrica è tutta un'altra cosa è lo stesso per il gasdotto mentre invece l'aerogeneratore il fotovoltaico mi danno lo stesso elettrone che mi viene dal gas o che mi viene dal nucleare o da qualsiasi altra cosa non mi cambia niente nel modo in cui la mia casa funziona e quindi perché mai preoccuparvele mi disturba e basta ecco sono questi i temi secondo me fondamentali da affrontare prima ancora forse di quelli tecnici grazie grazie davvero professore non ci resta che chiudere qui magari Piero se vuoi dare tu prima parola no torno a ringraziare Federico anche per le sue equilibrate e sagge conclusioni dico solo che riprenderemo naturalmente le lezioni su temi diversi ma su questi sicuramente ritorneremo vediamo di organizzarlo magari limitando limitando i temi per renderla più produttiva ma io diciamo faccio tesoro delle considerazioni che faceva Tamara a proposito della traduzione in termini divulgativi delle pur nostre limitate conoscenze scientifiche su questi temi sono temi che rimangono patrimonio di diciamo di studi e di discussione di un distretto nucleo di studiosi e non passa attraverso la popolazione a meno che non siano paesi della Toscana dove ci sono paesaggi di pregio da difendere ma diciamo altrove la popolazione purtroppo non viene coinvolta perché sono scomparsi gli strumenti della volontà collettiva come Gramsci chiamava i partiti come Gramsci chiamava il partito il partito popolare e quindi ci dobbiamo fare carico anche di questo aspetto organizzativo e di diffusione culturale grazie a tutti e buona serata a presto grazie ciao a tutti allora ciao